Per aprire il cofano, tirare la leva nella parte inferiore sinistra del cruscotto. Dopo aver aperto il cofano, con il contatto disinserito e il motore freddo, è possibile accedere al vano motore per rabboccare il liquido di raffreddamento, il liquido lavavetro del parabrezza, l'olio motore e il liquido dei freni. La batteria non richiede alcuna manutenzione.